Con forza Horizon 2, Playground Games riprende la fortunata formula del predecessore, arricchendola ma senza stravolgerla. Il modello di navigazione dell'enorme mappa di gioco si presenta del tutto simile a quello visto nel primo episodio, con una guida free roaming che si rivela quasi sempre la scelta migliore per i propri spostamenti. Questo grazie ad un sistema di sviluppo del proprio pilota in grado di raccimolare punti esperienza in qualsiasi momento. Esibirsi in una guida pulita o sverniciare le auto di passaggio sono infatti solamente due dei metodi grazie ai quali continuare la scalata a livello superiore, anche una volta fuori dalle gare vere e proprie. Il senso di crescita all'interno di Forza Horizon 2 si rivela quindi soddisfacente ed equilibrato, senza sessioni nelle quali il giocatore si senta bloccato da un particolare evento. Grazie alle evoluzioni e allo stile di guida tenuto in gara o nelle diverse prove sarà possibile guadagnare nuovi punti abilità, utilizzabili per sbloccare numerosi vantaggi che garantiranno bonus e benefici adattabili al proprio stile di gioco. Ad avvicinare in modo ancora più forte lo stile di guida di Forza Horizon 2 verso un modello più realistico troviamo la possibilità di personalizzare totalmente il sistema di aiuti alla guida, aumentando così anche la percentuale di bonus che andremo a guadagnare alla fine di ogni gara. Tra le preferenze selezionabili in questo nuovo capitolo troviamo anche un sistema di danneggiamento delle auto rinnovato, che andrà ad influire in modo più credibile sulle prestazioni. Sul fronte del modello di guida comunque Forza Horizon 2 ripropone il feeling già conosciuto all'interno del precedente episodio. Più che concentrarsi su aderenza e spostamento dei carichi quindi sarà sufficiente parzializzare il gas o eventualmente toccare il freno con estrema delicatezza, senza preoccuparsi troppo di sbandate e testa coda. Ricchezze e varietà nelle modalità di gioco si confermano uno dei punti di forza della serie. Insieme agli eventi già conosciuti nel precedente capitolo si aggiungono i cosiddetti tracciati cross country, nei quali attraversare un alternarsi di strade asfaltate e sterrate in prove che metteranno a dura prova le vostre abilità di drifting. Non mancano una serie infinita di attività secondarie che andranno ad arricchire le fasi free roaming, tra cui le inedite sfide imperdibili, nelle quali portare a termine incarichi come il raggiungimento di una certa velocità di punta o la semplice copertura di un determinato tracciato entro un limite di tempo massimo per mezzo di una specifica auto. La sfida offline contro l'intelligenza artificiale si rivela sempre appagante e piuttosto impegnativa, capace di offrire un'ampia varietà di avversari. Non dissimile dal precedente capitolo, la modalità multiplayer di Forza Horizon 2 vede nel Grand Tour Online la sua principale attrattiva. Una volta connessi, un sistema di matchmaking vi unirà ad altri giocatori dal livello non dissimile dal vostro, per poi lanciarvi in mini campionati nei quali l'enfasi non sarà più incentrata verso il raggiungimento della prima posizione, ma piuttosto su uno stile di guida pulito e ricco di evoluzioni. Ai vari gruppi di giocatori sarà anche data la possibilità di organizzare raduni nei quali confrontare il proprio parco macchine, scambiarsi setup e design o partecipare a gare veloci tra amici. Il lavoro svolto da Playground Games a livello di abiettazioni si rivela assolutamente sbalorditivo, capace di rappiere il giocatore grazie a paesaggi mozzafiato e scorci dalla bellezza disarmante, con scenari che partono dalla Provenza e proseguono per la costa azzurra, arrivando lungo la splendida costiera amalfitana attraverso la Toscana. Le auto impegnate in gara animeranno le strade di Forza Horizon 2 con un framerate inchiodato a 30 fps ed una risoluzione di 1080p, testimoniando, insieme al buon anti-aliasing ad una draw distance di tutto rispetto, come il comparto grafico messo in piedi dagli sviluppatori si confermi tra i più performanti sulla nuova console Microsoft. Il comparto sonoro dal canto suo riproporrà tutte le atmosfere di un vero e proprio festival di musica elettronica, svolgendo il suo compito di accompagnamento in modo più che soddisfacente. Forza Horizon 2 arricchisce la formula di gioco del suo predecessore con una struttura in grado di miscelare egregiamente elementi offline e online, vecchi e inediti, confermandosi nuovamente come uno dei più bilanciati incroci tra racing arcade e simulativi. A stupire all'interno della sua formula di gioco sono principalmente la ricchezza di eventi e campionati disputabili e la totale libertà lasciata al giocatore nella modalità free roaming. Al piacere della guida in Forza Horizon 2 si affianca infatti quello della magnificenza dei suoi paesaggi, tra i più evocativi del genere, è capace di rivelarsi un vero e proprio valore aggiunto all'opera Playground Games.